Scopriamo subito qual è il titolo che abbiamo voluto mettere in evidenza oggi con Andrea Cartisano. Eccolo qui, Eni. Nel primo trimestre dell'anno ha conseguito un utile netto pari a 270 milioni di euro, quasi 5 volte quello conseguito nel primo trimestre 2020. Nel primo trimestre quindi l'utile è aumentato a 856 milioni di euro rispetto alla perita di 2,9 miliardi del primo trimestre del 2020 e del rosso di 797 milioni nel quarto trimestre 2020. È arrivata naturalmente la soddisfazione dell'amministratore delegato Claudio Descalzi che ha detto fondamentalmente questa è una robusta ripresa e quindi ci consente di guardare con ottimismo ai prossimi mesi. Allora a te Andrea tutte le valutazioni del caso. Ma diciamo che Descalzi deve tirare acqua al suo mulino però i dati non sono piaciuti. Perché non sono piaciuti? Innanzitutto comanda sempre il mercato, venerdì il titolo è stato piuttosto venduto, oggi in apertura ha fatto uno spike importante fino a 9,62 poi peraltro ha recuperato bene, perché dico che non sono completamente d'accordo? Perché Eni, ed è per questo che è stato portato come caso del giorno, purtroppo indipendentemente da come la società operi ha un condizionamento assoluto dal prezzo del petrolio. Praticamente loro quando fanno una stesura del bilancio, il primo dato non mettono quanto guadagnano, quanto è il debito, ma mettono il prezzo del petrolio nel periodo, emettono il cambio euro-dollaro. Per cui diciamo che loro sono stati favoriti moltissimo dal fatto che nel 2021 primo trimestre il prezzo medio rilevato sul Brent è stato 60,90, un anno prima è stato 50,26, per quello che il mercato non ha visto in maniera così positiva i dati di bilancio. Oltretutto c'è stato anche un apprezzamento notevole nel periodo del dollaro da 1,103 primo trimestre 2020 a 1,205 primo trimestre 2021. Tant'è che pur avendo avuto una variazione del 21% sul prezzo del petrolio al barile, l'unico dato veramente positivo è stato quello relativo all'utile che è stato appunto come ricordavi tu, 270 milioni da 59, però è un utile netto adjusted, per cui comunque io preferisco vedere l'utile netto effettivo che risulterebbe 856 milioni da una perdita di quasi 3 miliardi, però ripeto non è che abbia lavorato particolarmente beneni e che quando ti trovi un prezzo del petrolio così in risalita e un cambio comunque così sostanziale di euro dollaro comunque riesci a avere un risultato migliore. Ovviamente il problema qual è? Che migliorare i dati che ci sono stati l'anno scorso è stato abbastanza facile perché iniziavano le turbolenze proprio sul prezzo del petrolio a marzo del 2020, quindi dobbiamo rivedere assolutamente Eni, in realtà il picco del crollo col contratto feature negativo era stato a maggio, quindi dobbiamo dando un giudizio in sintesi rimandare Eni a un secondo trimestre per vedere se effettivamente ci saranno degli ulteriori miglioramenti perché comunque nonostante la pandemia non sia stata totalmente sconfitta il prezzo del petrolio è in trend piuttosto positivo per cui anche qui Eni è un titolo che per venire al discorso che facevo all'inizio non comprerei a questi prezzi ma aspetterei un ritorno almeno in area 9 perché il titolo secondo me tra 10 e 10,50 ha fatto una bella distribuzione e adesso deve correggere per trovare una nuova base da cui ripartire. Per cui oggi abbiamo appunto citato Eni perché volevamo dimostrare quanto sia purtroppo significativa l'incidenza del prezzo del petrolio su un bilancio come quello di Eni e ovviamente quello che conta è che le stime erano leggermente più positive rispetto ai dati pubblicati ed è per questo che è iniziata una correzione di breve periodo sul titolo. D'accordo, beh in realtà infatti tu hai detto Descalzi deve tirare acqua al suo Morino lui diciamo ha legato l'ottimismo per il futuro proprio anche alla diciamo così alla fine della pandemia o comunque al miglioramento del quadro pandemico di conseguenza economico e si collega anche a quello che dicevi tu Andrea che bisogna aspettare i prossimi dati per capire se effettivamente questo miglioramento è confermato. Ecco questo è un po' il punto della situazione. Ottimo e questi sono i nostri casi di borsa vi invito a segnalarci dei titoli in particolare che volete analizzare insieme a noi e insieme ad Andrea Cartisano ogni settimana.